L'Unione Sportiva Agropoli comunica di aver tesserato il difensore Gabriele Pastore. Il calciatore si è già allenato con la squadra di Mister Cianfrone ed è già disponibile per la trasferta di Angri contro il San Marzano. Il curriculum del difensore napoletano parla da sé. Nato a Napoli il 26 maggio 1993 è un difensore di piede destro con lunga militanza in serie D. Nell'ultima stagione ha giocato al Santa Maria Cilento. In precedenza ha vestito le maglie di Città di Anagni, Rotonda, Gragnano, Herculaneum, Calcio Pomigliano, Sarnese, Battipagliese e Gladiator per un totale di 212 presenze in categoria. Ho accettato questa chiamata perché so di arrivare in una società sana con obiettivi importanti. Inoltre ho ritrovato ex compagni di squadra che hanno sempre disputato campionati a vincere. Questo è un grande stimolo. Sono consapevole di dover rimpiazzare Antonio della Monica che stava facendo un grande campionato. Da calciatore capisco la sua sofferenza per il brutto infortunio e ci tengo nel mio primo giorno a mandargli un grande in bocca al lupo. Infine so bene che quest'anno c'è da festeggiare al meglio il centenario e spero di farlo insieme ai tifosi dei delfini nel miglior modo possibile.